Martedì 24 settembre, ben ritrovati, puntuali come sempre per la nostra rassegna stampa, il nostro consueto appuntamento del mattino con le prime pagine, andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola stamane, andiamo a dare un'occhiata ai titoli in primo piano per capire quali sono gli argomenti principali di oggi. Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dal quotidiano, la Sicilia, tanti temi affrontati anche in prima pagina, panni sporchi, questo uno dei titoli, Enna senza acqua, nonna e nipote al lavatoio, la procura apre un fascicolo, crisi idrica preventivabile, la rabbia dei cittadini. Dunque l'emergenza siccità vedete sempre in primissimo piano in Sicilia. L'Italia più ricca ma senza tesoretti, l'Istat rivede le stime su PIL e debito, ma Giorgetti frena, bilancio, numeri invariati. E poi edilizia e territorio, salva casa, in Sicilia il rebus applicazione, Lars prende tempo. E ancora slalom meloni fra Kamala Harris e Donald Trump e il premio consegnato da Musk proprio alla Premier. L'iniziativa della regione, bonus voli, rimborsi, fermi, Schifani dice sono pronti 6 milioni di euro. E poi alla sbarra gli stupratori, villa ancora poco sicura, si parla della violenza avvenuta nove mesi fa. In taglio laterale il caso Caltanissetta assetata, lo stadio innaffiano l'erba sintetica e ovviamente i tifosi si infuriano. Ancora l'emergenza siccità, Musumeci, il ministro Musumeci, Bacchetta e siciliani, siamo un popolo che soffre d'amnesia. Queste le parole dell'ex governatore. Focus a Siracusa contro le agromafie, guerra a tutto campo, pene più severe e ingressi regolari. In taglio alto Paolo Briguglia dai Florio ai fratelli Corsaro, il gusto di recitare senza perdere di vista le proprie origini. Giro delle città partendo da Catania, studente gira video e incastra un maniaco. E poi sempre a Catania rinviata l'udienza con San Martino. Randazzo, emergenza, loculi, le bare nella chiesa, mentre a Taormina, viabilità nella frazione di Trappitello, pronto un piano anti-caos. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Sicilia, che apre invece con Palermo, una Palermo violenta di notte soprattutto. Vedete le notti violente di Palermo, questo il titolo. Risse, aggressioni, spaccio abusivi dalla Vuciria a Ballarò. La Movida rimane zona franca. Un intervento chirurgico salva la vita alla 21enne raggiunto da otto coltellate. Le parole dell'assessore Carta dice rigenerare le periferie con il lavoro. Altre notizie, AST, destino in bilico ultimatum sulle corse, mentre per quanto riguarda il bonus voli i rimborsi sono in ritardi, ma sono stanziati, vedete, altri 6 milioni di euro. E poi la G7 dell'agricoltura a Siracusa, nonostante il caldo, la Sicilia si conferma comunque prima nel biologico. Il presidente Mattarella celebra gli atleti olimpici e paralimpici. Vedete, Mattarella abbraccia i medagliati e anche i quarti. Dunque, grande soddisfazione per i nostri atleti, ma anche grande soddisfazione per il presidente Mattarella nella premiare e celebrare questi atleti che hanno reso onore all'Italia, alle recenti Olimpiadi e Paralimpiadi in Francia. Assemblea regionale, nessun rinvio. La legge contro il crack subito al voto, sempre in taglio laterale. I dati dell'ASPO e non solo droga adesso fa paura, pure l'alcol. E poi l'appello, portella della Ginestra, memoriale nel degrado. I sindacati chiedono interventi di restauro e salvaguardia appunto di questo importante memoriale. In taglio alto, shock a Molfetta, confessa il killer Antonella, uccisa per errore. L'uccisione invece di Giulia Cecchettin via il processo, Turetta assente, sottolinea il giornale di Sicilia. E poi la situazione in Medio Oriente, Israele dalla caccia ai miliziani di Hezbollah, bombardamenti sul Libano e almeno 350 morti. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Restiamo nell'isola con la prima pagina della Gazzetta del Sud. Tra le altre cose si parla anche di Messina. Tempi lunghi per i viadotti. Inizieranno non prima dell'anno, dell'anno prossimo ovviamente, i lavori per le rampe che collegano Giostra all'annunziata. Progettati, pensate un po', nel 98, collaudati nel 2009, non sono mai stati aperti al traffico. A ST saltano le corse, rabbia di studenti e lavoratori, trasporto pubblico nel caos in Sicilia tra Barcellona e Messina. E poi in Libano è guerra, strage di bambini, raid israeliani, 492 vittime, fra cui 35 piccoli innocenti e il preludio di un attacco di terra, si chiede la Gazzetta del Sud. Beirut e la Valle della Beca, devastate dalle bombe, e i filo iraniani lanciano i razzi. Insomma, la situazione è sempre più critica, sempre più complicata, vedete, in Medio Oriente. Lasciamo la Gazzetta del Sud. Andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Palermo, del quotidiano La Repubblica, anche qui si parla dell'allarme, sicurezza nel capoluogo siciliano, dove aumentano i casi di violenza, e allora, come detto, è allarme, sicurezza in città. Nel weekend risse e accoltellamenti, grave un giovane, denunciato un tentativo di stupro, i sindacati di polizia, mancano 180 agenti, le parole del questore, la gente si sente insicura, ma i controlli ci sono. E poi, il punto sugli impegni del Comune, sempre di Palermo, l'arrivo di 100 vigili urbani, non prima del 2025, e ci sono dei ritardi, vedete, sulle telecamere, telecamere che certamente avrebbero un ruolo importante quando si parla di sicurezza, soprattutto nelle zone particolarmente frequentate dai giovani durante la cosiddetta movida. Si parla anche di sanità su Repubblica Palermo, pazienti in fuga, record di spesa per i viaggi della speranza. E a proposito di viaggi, Repubblica fa un viaggio nella Sicilia che si spopola, in questo caso si parla di Leonforte. Nel deserto di Leonforte i giovani scommettono su una cartiera. 100 nascite e 150 morti l'anno nel paese dell'ennese, appunto Leonforte, che come detto si spopola. Rimborsi per i voli, il bonus voli, ma la regione, vedete, non ha più soldi. E ancora la Juventus Anter 23 per Notta a Birgi, l'aereo accumula ritardi. Insomma, ci sono state delle difficoltà per questi ragazzi della Juve che erano in trasferta qui in Sicilia. Si parla chiaramente di calcio. L'anniversario di italiano Brancati, cinico e antifascista. E poi, sempre a proposito di calcio, le parole di Edireia. Io, i rosa nero, ovvero il Palermo, e il derby del Sud. Lasciamo Repubblica a Palermo. Restiamo però sulla Repubblica con la prima pagina dell'edizione nazionale. In primo piano la situazione, come detto, sempre più critica in Medio Oriente. Libano, pioggia di fuoco. Titola Repubblica. Intensi bombandamenti nel Sud e sulla Valle della Beca colpiti 1.300 obiettivi. Ride sulla capitale, nel Mirino. Ali Karachi. Migliaia, gli sfollati in fuga. Le autorità di Beirut. Oltre 490 morti. Questo dovrebbe essere più o meno il bilancio. Le parole di Netanyahu. Preveniamo le minacce contro di noi. Giorgia Meloni, invece, boccia la riforma dell'ONU. Non vedrà né Biden né tantomeno Zelensky. Lasciamo la Repubblica. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui vedete la situazione in Libano. In primissimo piano. Libano sotto un diluvio di bombe. È l'attacco più duro dal 2006. Colpiti 1.300 obiettivi. Netanyahu alla popolazione. Lasciate le zone pericolose. Nuovi ride anche a Beirut. Nel Mirino il numero 3 di Hezbollah. Quasi 500, purtroppo, i morti. E 35 di questi sono bambini. Numeri certamente terribili in Medio Oriente. Ma destinati, a quanto pare, ad aggravarsi. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Ci spostiamo sulla prima pagina della giornale. Vediamo quali sono i temi stamane affrontati. I temi in primo piano. Berlino alza un muro contro Unicredit. In Europa inizia la guerra delle banche. E poi la Meloni striglia l'ONU all'Assemblea delle Nazioni Unite. La Premier critica la riforma. No a un club con paesi di serie A e serie B. Mentre per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, Giorgia Meloni dice L'uomo rimanga al centro. E ancora guardate un po' cos'è successo. Confessa l'omicidio in diretta TV. La vita diventa un reality show. Ho ucciso mia madre. Questo ha confessato Lorenzo Carbone, che era in diretta TV a pomeriggio 5. Dunque ha confessato di aver ucciso la madre. E poi Liguria, Blitz del PD. La sinistra si prende il gruppo Spinelli. Lasciamo il giornale. Siamo sul Fatto Quotidiano. Super bonus senza buco. Crescita su, debito pil, giù. Balle di governo, scrivono i colleghi del Fatto Quotidiano. Dall'edilizia il 90% del boom post-Covid. I nuovi dati Istat, l'incremento 2021-2023 è rivisto al rialzo. Più 90 miliardi trainati dalle costruzioni. Il rapporto col debito torna ai livelli del 2019. Questa dunque è la notizia di apertura stamane sul Fatto Quotidiano. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Vediamo invece cosa ci propone in prima pagina il Quotidiano, la stampa. Anche qui la situazione in Medio Oriente sotto i riflettori. Libano sotto le bombe di Israele. Raid fino a Beirut. 492 morti. Migliaia di civili in fuga. Giallo sulla fine del numero 3 di Hezbollah. Stati Uniti impotenti di fronte all'escalation. Appello ONU a Netanyahu. Si rischiano conseguenze devastanti. Ma Israele, vedete, al momento va avanti per la propria strada. E questi, al momento, sono i risultati. Come detto, il rischio di una sempre più probabile escalation è dietro l'angolo con gli Stati Uniti. Sottolinea il Quotidiano, la stampa, impotenti di fronte all'attuale quadro della situazione. La prima pagina della Quotidiano il mattino. Gennarino non resterà solo. Si parla della tragedia di Saviano. Trovato il corpo della nonna. Migliore, invece, il bimbo sopravvissuto. E allora parte una gara di solidarietà in ospedale. Il papà, invece, è ancora grave. Unicredit, gelo tra Roma e Berlino. Dura reazione della Germania. A tostile Tajani. Le parole di Tajani. Nell'Unione Europea c'è il libero mercato. Spazio anche al calcio. Napoli, credici. Inter e Juve in affanno. E allora la missione scudetto degli uomini di Conte è assolutamente possibile. Sottolinea il Quotidiano il mattino. Libano, invece, sotto assedio di Israele. Esodo di civili da Beirut. Nuovi raid, lo abbiamo visto prima, con quasi 500 morti. Questo è il bilancio pesantissimo. La prima pagina del Quotidiano Libero tira, invece, una stoccata al noto conduttore Amadeus. E un pacco, scrive Libero, che parla di grande fiasco. La risposta alle polemiche del PD sulla RAI depauperata la danno gli spettatori. Il nuovo programma di Amadeus su Discovery fa flop. Questo dicono i numeri. Mentre la leader del PD, Elie Schlein, lancia la campagna del fango. Scarica barile sull'alluvione. Elie in Romagna distribuisce ai suoi vademecum per riversare sul governo le colpe del disastro. Sondaggi e divisioni, solo il PD crede nel campo largo. Mentre il discorso a New York di Giorgia Meloni all'ONU, riformiamola. Questa è la posizione della Premier a proposito dell'ONU. Proseguiamo con la nostra rassegna. Vediamo adesso la prima pagina del secolo XIX. Qui si parla di sanità legata, in questo caso, alla regione Liguria. Più Liguri, vedete, in fuga. Questo è il report dell'agenzia Agenas sui dati del 2023. In aumento le spese per l'ortopedia, parla l'assessore, i privati possono aiutare. Le cure fuori regione sono costate 99 milioni, 5 in più dell'anno precedente. E il deficit record del Nord, sottolinea il secolo XIX. Parliamo di sport. Andiamo a vedere anche questa mattina le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che si sofferma sul Milan dopo la vittoria nella derby con l'Inter di domenica. Milan ora sei mio. Questa la rivincita del tecnico Fonseca che sembrava in bilico, sembrava un passo dall'esodero. Invece questa vittoria importantissima sembra aver salvato la sua panchina. Diavolerie tattiche, idee decise, scelte e coraggio. Così il portoghese si è preso i rossoneri, adesso però non vuole più fermarsi. Chiaramente bisogna adesso dare un seguito alla bella vittoria nel derby, ma per il momento Fonseca ha salvato la sua panchina. Il Corriere dello Sport invece si sofferma sui problemi dell'Inter. Dalle stelle allo stallo, questo il titolo. Tutto sulla strigliata di Inzaghi alla squadra per i sette punti persi in questo inizio di campionato. Inter, sindrome scudetto, Lautaro e Big sono in crisi. I capi d'accusa di Inzaghi dopo il K.O. nel derby con il Milan. Approccio molle, eccesso di sicurezza e scarsa lucidità. Queste dunque le accuse. Vedete che Inzaghi muove alla squadra nel tentativo ovviamente di spronare i campioni d'Italia che hanno iniziato un po' balbettando questo campionato. Chiudiamo con Tutto Sport che invece celebra il Torino. Primo in classifica c'è una Coppa di Sogni Toro. Oggi con l'Empoli alle 21 anche il tifo di buongiorno per la capolista. Il difensore venduto da Cairo al Napoli chiama gli ex compagni. Orgogliosi di voi, lo stadio si riempie e con la Lazio sarà esaurito quel frosinone da cancellare. Insomma, grande entusiasmo ovviamente per il popolo Granata per questo avvio di campionato sorprendente con il Torino che lo ricordiamo è al primo posto in classifica. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampa. Abbiamo fatto e concluso il giro delle prime pagine. Ovviamente l'informazione non si ferma sui nostri canali. Allora anche oggi l'invito rimane lo stesso. Rimanete con noi, a più tardi.